La cucina è una passione e chi si avvicina ai fornelli deve farlo con il cuore prima che con le mani. Lo sa bene Carlotta Delicato, la giovane castinate vincitrice di Hell's Kitchen, il fortunato cooking show Sky condotto al terribile master chef Carlo Cracco. Carlotta di recente ha accolto la sfida lanciata lei dal sindaco di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro, che le proponeva di consentire alla comunità castinate di saggiare le prelibatezze che hanno infiammato le cucine dello show televisivo. Sfida accettata ma alle sue condizioni, usando il cuore. Il mio modo di festeggiare è un po' diverso, o almeno provo a renderlo diverso. La cucina è un gesto d'amore e quindi mi è piaciuta l'idea che ho già affrontato una volta di cucinare in piazza e fare una raccolta fondi per le persone che adesso non stanno vivendo un bellissimo periodo. Mi rivolgo alle popolazioni di Norcia e quindi facciamo una raccolta fondi proprio per loro e cucinerò un piatto di Norcina in piazza con il sindaco e il ricavato di questa vendita di Norcina andrà proprio a queste popolazioni colpite dal terremoto. Norcia poi perché? Perché come Cassino è una terra di San Benedetto e poi mi sento legata a loro per la loro tradizione enogastronomica, dalle rendicchie di Castelluccio, dalla salsiccia, proprio dalla Norcina, quindi un piatto che anche qui è spesso cucinato nei vari ristoranti e anche nelle varie case. Norcia e Cassino, due città legate a doppio filo dal Cammino di San Benedetto, patrono d'Europa, due città che domenica 18 dicembre abbatteranno ogni confine geografico attraverso l'arte culinaria della Cassinate Carlotta. Abbiamo sentito il sindaco di Norcia, ci ha dato la disponibilità ad una chiamata durante l'evento e quindi lo sentiremo e diciamo lo avvertiremo man mano della cifra che stiamo raccogliendo. L'iniziativa si chiama proprio Un piatto mille cuori perché il mio obiettivo è quello di arrivare a mille cuori in piazza, ovvero almeno a mille persone perché più siamo più fondi riusciamo a prendere e a più persone riusciamo a far star bene.